Cosa perde e cosa perderà l'Abruzzo? Intanto non ci sono più i fondi del PNRR per la linea Pescara-Roma. 620 milioni di euro sono volati via, verrebbe da dire, come l'ultimo aereo per Milano-Linate. Un collegamento attivato nel 1991 e come se non bastasse, tuone il deputato del PD Luciano D'Alfonso, oltre al danno c'è anche la beffa. Il presidente della SAG e la regione Abruzzo sono impegnati in litigi di bottega per un compenso di circa 41 mila euro richiesti da Catone per i ruoli aggiuntivi del 2022-2023. Urge che il Ministero della Coesione, il MEF, attraverso le richieste della regione, magari in sede di conferenza Stato-Regioni, ricollochino le risorse necessarie per fare la Pescara-Roma. Dirlo con un'agenzia stampa, dirlo in Parlamento, non serve a nessuno. Noi vogliamo che si stabiliscano le risorse attraverso l'esattezza di una imputazione nei primi tre titoli del bilancio dello Stato. La seconda grande questione riguarda sempre la trasportistica, il diritto degli abruzzesi a spostarsi. L'aeroporto di Pescara col vettore Pescara-Milano. Da Pescara arrivare a Milano significa poter andare nel mondo, in Europa e nelle grandi lontananze. Un consiglio che do, richiesto o non richiesto, fare in modo che subito si apra una riflessione col Ministro Salvini che è motivato, con l'autorità dei trasporti che ha sede a Torino e con l'ENAC, per fare in modo che si trovi o la soluzione con ITA o altra compagnia di bandiera interessata di investire sul collegamento Pescara-Milano. E poi c'è la questione delle NAIADI, con l'ultima asta andata a deserto il 27 luglio scorso e rinviata il 18 settembre. Ecco cos'altro potrebbe perdere l'Abruzzo. La struttura che ha ospitato, tanto per fare un esempio, gli scudetti e le coppie campioni di pallannuoto e i giochi del Mediterraneo. Allora, per le NAIADI servono almeno 10-15 milioni di euro per fare in modo che conosca un'ulteriore modernizzazione, per attrarre grandi operatori, coinvolgenti anche i locali, l'associazionismo sportivo, e si scriva un bando che sia capace di attrarre il mercato. Il centro-destra di Comune di Pescara e della Regione non sono capaci di scrivere bandi per mobilitare l'interesse del mercato. Non voglio dire che sanno soltanto fare affidamenti senza gara, ma lo potrei anche pensare, se giudico quello che è accaduto al Comune di Pescara.